PEGI 18 Quando sacrifico i miei anni più belli per difendere ciò che è nostro? Quando dico no ad una legge che non abbiamo mai votato? Quando smetto di sfamare un impero lontano? Quando lascio che imprigionino il mio corpo ma non il mio spirito? Quando chiedo al Signore di non guardare? Quando rifiuto di imparare la storia di un paese che non vedrò mai quando decido che questa volta toccherà a loro non a noi non è Grazie a tutti.